Consueto appuntamento con il basket agropolese, lo facciamo come sempre qui al palazzetto di concilio di Agropoli e parliamo di campionato serie C gold, girone B che non è più perché adesso come sapete è stato accorpato al girone A per la fase a orologio e diamo tre numeri 20, 18, 16, naturalmente non li giocate all'otto, sono i numeri della classifica in cui si trova la nostra squadra ovvero a 20 punti Salerno, 18 segue quindi la New Basket Agropoli e 16 la Mezzia. Due di queste tre andranno a fare il Final Four con le prime due squadre del girone A. Oggi dobbiamo festeggiare la grande forza dei nostri giovani agropolesi, sono con me Giuseppe Lepre e Arturo Farese, ben trovati ragazzi, come va? Tutto bene, tutto bene, grazie e buonasera a tutti. E allora con loro facciamo subito il bilancio dell'ultima partita, abbiamo vinto a Reggio Calabria, migliore in campo Giuseppe Lepre e a Giuseppe chiediamo insomma come sei riuscito ad arrivare a fare dei buoni numeri in questa partita. Sei stato costante, devo dire la verità, durante tutto il campionato però davvero hai dato una marcia in più non solo a te stesso ma anche all'intera partita e ai tuoi compagni. Com'è andata? Raccontaci Giuseppe. No, è stata, sapevamo che Reggio era una partita molto dura, conoscendo anche se erano due punti in classifica, sapevamo che era una bella squadra. E niente, abbiamo giocato la nostra palla a canestro pronto a limitare i loro punti di forza e mi hanno dato spazio, fortunatamente ho fatto canestro, merito anche dei compagni che mi hanno cercato parecchio. Quanti punti da tre hai totalizzato? Mi sembra cinque, cinque triple mi sembra. Cinque triple e invece nella totalità? 27. 27 punti, complimenti. Arturo, a te invece vorrei chiedere la prossima sfida contro l'Irpinia che diciamolo insomma è fuori gioco ormai, ha soli dieci punti quindi se dovesse vincere o perdere insomma non cambia nulla per questa squadra che rimarrebbe appunto nel campionato Serie C Gold Campania. Come affronterete l'Irpinia e quanto è importante vincere? Allora innanzitutto non sarà una partita facile, cioè non ci facciamo ingannare dalla classifica perché comunque sono giocatori esperti che ci tengono a far bene anche in vista l'anno prossimo in vista di tutto. Sono giocatori che hanno militato in campionati importanti, vedi Linton Johnson ha vinto l'NBA, Gerard Esposio ha giocato tanti anni in Serie B, Ferrara ha giocato in Serie A, Gianni Celli è un ottimo tiratore che ha giocato anche lui in Serie B. È una squadra sulla carta molto forte, però noi siamo motivati, dobbiamo vincere a tutti i costi. Sono tre finali da ora fino al 30 maggio con Irpinia, Forio e con Benevento. Ne dobbiamo vincere tutte e tre sperando di arrivare alle Final Four, che è il nostro obiettivo attuale diciamo. E ora invece voglio soffermarmi nel dettaglio su questi giovani, lo ricorderò sempre, sono dei giovani agropolesi che sono partiti sotto la linea guida di un progetto, di un progetto realizzato insieme al Presidente Angelo Farese e naturalmente Coach Lebre e tutto lo staff, lo dobbiamo dire, perché dietro le quinte ci sono tante persone che lavorano per una squadra forte. Ecco, il progetto giovani di questa società. Raccontaci Giuseppe, quando tu sei stato chiamato da Sora mi sembra, perché è l'ultima squadra in cui tu hai appunto militato prima di arrivare qui ad Agropoli. Cosa ti ha convinto di questo progetto e come nel tempo hai avuto un'evoluzione? Sì, diciamo che mancavo da casa tra virgolette da quattro anni e quando l'estate scorsa il Presidente con la società e il coach mi hanno chiesto di venire a giocare qua, diciamo che non ci ho pensato su parecchio perché mi piaceva tornare a casa e assaporare anche senza pubblico proprio questo parquet, questo palazzetto. E niente, la società, devo dire la verità, per la prima volta, forse da tanti anni, si respira aria di un progetto giovani che ad Agropoli forse vuoi le categorie alte ma è venuto a mancare e lo stiamo facendo, lo stanno facendo molto bene, per questo forse i miei numeri stanno alzando, non lo so, ma sto giocando tranquillo e provo a fare bene. Invece tu che cosa ci puoi dire in merito al progetto? Entrambi conoscete, diciamo, strettamente i protagonisti di questo progetto, Arturo è il figlio del Presidente, Giuseppe è il figlio del coach e forse anche questo vi spinge maggiormente ad avere una responsabilità in più, Arturo. Oltre che un progetto giovani, secondo me anche un progetto agropolese perché negli anni passati era difficile trovare giocatori d'Agropoli in campo, protagonisti come quest'anno, anche come l'anno scorso con Antonio Lepre, Luigi Borrelli, quest'anno con Amedeo Norci, Marco Di Mauro, quindi siamo a volte in campo, il quintetto è composto da cinque agropolesi ed è anche una cosa molto bella perché siamo anche tifosi della nostra città, quindi ci teniamo con tutto il cuore a vincere, a fare bene per la città, per noi stessi, per la società e per tutta Agropoli. Devo dire che, prima l'ha sottolineato Giuseppe, senza pubblico ragazzi davvero è difficile giocare perché l'incitamento del pubblico ti aiuta moltissimo per la carica, per l'energia e per tutto, quindi davvero dietro c'è una forza assolutamente incredibile. Allora, per chiudere, che cosa vogliamo dire ai nostri telespettatori che ricordiamo seguire la partita domenica alle ore 19 su Cilento Channel, sia su Digitale Terrestre, sia sul canale Facebook Cilento Channel e anche sulla pagina Facebook della New Basket Agropoli. Ne approfitto nel ringraziare anche tutto lo staff della comunicazione, a partire da Danilo Perillo, dal fotografo Angelo Gasparro, da Andrea Passaro che davvero con i suoi comunicati ci dà una grande mano, siamo davvero una grande famiglia. Allora, un messaggio finale ai nostri telespettatori che ci hanno seguito e soprattutto grazie ai nostri sponsor. Quello non lo dobbiamo mai dimenticare perché ci hanno permesso di raccontare questa fantastica storia e ci permetteranno, ce lo auguriamo, di raccontarla sempre più in alto. No, voglio dire ai nostri tifosi di continuare a seguirci come stanno già facendo, che noi ce la metteremo tutta per arrivare il più lontano possibile. Speriamo che se riusciamo ad andare alle Final Four ci fanno sentire anche la loro carica da vicino, dai, perché il pubblico mi sa che i palazzetti saranno aperti al 25% dall'1 giugno quindi speriamo che qualche oltra, qualcuno che si fa sentire, verrà a vedere la partita. Benissimo, ce l'auguriamo davvero, dal primo giugno in poi, diciamo così, se i ragazzi andranno avanti con il Final Four ci sarà lo spazio anche per tanti di voi che vorrebbero appunto vederli dal vivo. Grazie e appuntamento a domenica, non dimenticate, ore 19, Cilento Channel. Grazie a tutti.